If you lived here, you'd be home by now. Se vivessi qui, sareste a casa a quest'ora. È un libro pre-pandemia pubblicato in 2019, da cui vogliamo partire oggi per una riflessione estiva sullo stile di vita, sul nostro stile di vita. Viviamo nel posto giusto per noi? Perché sì, ma soprattutto perché no? Partiamo da un libro che racconta la storia di un giornalista, un giornalista che si occupa di dati per il Washington Post e che insieme alla sua famiglia cambia completamente vita, dal pendolarismo su acqua stessa degli Stati Uniti a quello che i dati hanno definito il peggior posto dove vivere negli Stati Uniti, ovvero Red Lake County nel Minnesota. 1.400 persone e, secondo i dati, una pessima reputazione. Christopher Ingram è un giornalista del Washington Post. Abbiamo già detto che si occupa di dati, analisi dei dati, e scrive articoli partendo da delle analisi di dati. E questo articolo in particolare esce nel 2015, il peggior posto dove vivere negli Stati Uniti, ma alla fine il peggior posto dove vivere negli Stati Uniti, Red Lake County, è stato il posto nel quale Christopher è andato a vivere con la propria famiglia. Ma non vogliamo spoilerare né fare una recensione del libro. Non vogliamo rubare a nessuno il piacere di vivere questa storia. Prenderemo però spunto per riflettere sulla scelta del luogo da chiamare casa. Un'altra cosa che non faremo è dare consigli a giudizio assoluti, perché scegliere il posto da chiamare casa è un discorso molto più complesso di quello che può sembrare. È un discorso che ha a che fare intimamente con noi stessi, con la fase della vita nella quale ci troviamo, con i nostri sogni e anche con i nostri obiettivi. E voi come vi sentite? Nomadi, sedentari o una via di mezzo? Nascere, vivere, morire nello stesso posto, per via del lavoro oppure della famiglia, sono scelte di vita. A volte stiamo bene in un posto e quindi non abbiamo voglia di cambiare o forse abbiamo paura di cambiare, o stiamo realizzando i nostri sogni in quel luogo dove per caso siamo nati e cresciuti. Secondo noi l'importante è che questa sia una scelta consapevole. Poi c'è l'altra faccia della medaglia, ovvero il rimbalzare da un posto all'altro come una più impazzita, che da un certo punto di vista è proprio l'opposto estremo, opposto. Rimbalzare da un posto all'altro come una più impazzita è qualcosa che in certe fasi della vita può essere anche utile, piacevole, bello, ci arricchisce, però una vita intera come una più impazzita magari... Sono i due estremi, ovviamente. Sono proprio i due estremi. In mezzo ai due estremi c'è il luogo giusto per ogni fase di vita a seconda delle esigenze, delle priorità e anche delle possibilità che ognuno di noi dà a se stesso. Perché a volte siamo vincolati in schemi per i quali pensiamo di non poter cambiare o di non poter fare delle scelte e invece è tutto nella nostra testa. Quindi, quali sono le tue priorità? Lavoro, famiglia e poi... Punto di domanda. Come sei bella. Ma questo non va nel podcast, però. Niente. Andiamo avanti. Le priorità. Lavoro, sicuramente, è una grande priorità. Famiglia, altra grande priorità. Però poi ci sono anche delle cose che non metteremo sullo stesso livello di lavoro e famiglia che però fanno la differenza nella vita di tutti i giorni nel medio-lungo periodo che sono, ne sparo una, gli interessi personali. Io vivo in un posto nel quale riesco a soddisfare i miei interessi personali. Secondo me questo non è un aspetto secondario da considerare. Perché io penso, una persona a cui piace il mare, che ama il mare, che ama fare attività, il mare che possono essere immersioni, pesca o che ne so io. Anzi, se avete qualche altra idea, fatecela sapere. Ma se io vivo lontano dal mare e non posso vivere queste mie passioni che fanno parte della mia vita privata, probabilmente mi sto un po' limitando, a zoppando nel mio essere felice nel luogo in cui vivo. E non provare mai ad arrivare a vivere al mare, in questo caso, è un peccato. Sì, perché passi tanto tempo della vita a pensare io vivrei lì, mi piacerebbe vivere lì. E a noi succede questo ogni tanto, no? Quei momenti in cui pensi, sei in vacanza, magari in qualche posto meraviglioso, e dici, beh, io qui ci vivrei però. Poi cosa succede? Che torni a casa e un po' te ne dimentichi di quella sensazione, rientri nel tuo schema familiare e pensi, probabilmente con un retropensiero, quindi poco consapevole, che tanto non si può fare. Quindi vai avanti per la tua via. E questi però sono pensieri limitanti. Siamo tutti bravissimi ad anzopparci da questo punto di vista, ad anzoppare quei pensieri selvaggi e bellissimi che dopo due giorni dal rientro a casa appunto svaniscono. Beh, questo del... Io qui ci vivrei un esercizio che ci capita spesso di fare. Però consideriamo anche che nessuno di noi due è nato qui in Trentino dove viviamo adesso, però entrambi, in momenti diversi della vita, abbiamo scelto il Trentino come casa. La cosa che abbiamo discusso più di una volta è che è stato facile lasciare il posto da cui siamo nati, in cui vivevamo per cambiare. E la risposta è no, perché non è mai facile lasciare casa. E non è solo una questione di abitudini. È il posto che conosciamo, che comunque in qualche modo, tanto poco, ci siamo affezionati, ci siamo affezionati a una serie di cose che facciamo alle persone che incontriamo per lavoro, nella vita privata, le piccole cose che comunque sono belle di quel posto. L'altra domanda è ne vale la pena di trasferirsi, di cambiare tutto? E la risposta è sicuramente, è assolutamente sì. Io, per esempio, coltivavo da qualche anno l'idea di trasferirmi a vivere in montagna per motivi di studio, lavoro e vita privata. Questa è rimasta un'idea al palo per tantissimo tempo, forse troppo tempo. E poi sono partito. Mi sono trasferito e sono ripartito da zero sotto tanti punti di vista alla soglia dei 40 anni. È stato facile? No. Ne è valsa la pena? Assolutamente sì. Io questa scelta l'ho fatta molto prima perché avevo poco più di 20 anni e per me è stato molto più facile lasciare casa. Nel senso che la mia scelta è stata quella di allontanarmi da Milano che è una città che non ho mai amato particolarmente. Era troppo lontana da me in mille sensi. E quindi lasciare casa in quel momento non è stato difficile. la parte difficile è venuta poi nel ricostruire nel nuovo posto e quindi il trentino e nonostante avessi già amici, conoscenze, insomma, parte della mia vita, ma ricostruire le abitudini quotidiane, i ritmi e tutto quello che riempie la tua vita, la mia vita, in questo caso, è stato, è stato sì, abbastanza, abbastanza complesso. ci è voluto del tempo, mettiamola così. Sicuramente la consapevolezza poco più di ventenne di non essere nel posto giusto è stata estremamente importante. Poi, se rispondiamo alla domanda che ci siamo fatti prima, io mi sento molto nomade e quindi in questo momento viviamo in trentino, come hai giustamente detto tu, ma nella nostra testa non ci poniamo limiti e quindi pensiamo anche che sarebbe possibile un giorno vivere in parte qui e in parte altrove o magari trasferirci altrove per provare altri posti e altre esperienze. Pensa se vivessimo qui. Questo è un pensiero che ricorre ogni volta che andiamo in Sardegna e non solo d'estate anche durante l'anno e una delle cose che anche durante la pandemia abbiamo fatto è stata quella di pensare a come fare per trascorrere più tempo in Sardegna soprattutto nella zona di Alghero che è quella che abbiamo più nel cuore e lo stesso pensiero non lo abbiamo per esempio rispetto a grandi città come possono essere Milano Roma Firenze Bologna che sono tutti posti che frequentiamo e che siamo sempre felici di visitare però il pensiero di viverci anche no non fa per noi non fa per noi e come abbiamo detto all'inizio non è una questione di giudizio non è una questione di assoluti è relativo e per noi non sarebbe una scelta felice assolutamente sono d'accordo quando io sono andata via da Milano tantissimi amici mi dicevano tu sei matta perché lasciare Milano in quel momento sembrava un'assurdità oggi avviene il contrario tanti tanti di quegli stessi amici stanno hanno cercato o stanno cercando di venire via dalla metropoli e bisogna dire che sono cambiate le fasi di vita per l'appunto siamo cresciuti tutti ragazzi non c'è niente da fare e oltre a questo è cambiato anche il mondo insomma dobbiamo dirci che la pandemia ha avuto un grandissimo effetto anche su questo ma la domanda vera è come scegliere il luogo da chiamare casa come si sceglie come lo abbiamo fatto ci abbiamo un po' riflettuto e abbiamo provato a fare un breve elenco di quali sono i criteri con cui è possibile scegliere un luogo da chiamare casa se avessimo trattato questo argomento della pandemia del lockdown e di questa fase molto speciale delle nostre vite probabilmente avremmo sorvolato alcuni aspetti aver vissuto l'esperienza del lockdown invece diciamo che ha acceso la luce su cose che alla fine noi abbiamo visto contano sicuramente di più eh sì perché le priorità sono cambiate e il mondo del lavoro è cambiato e anche le famiglie in realtà le relazioni e quindi pensiamo che una riflessione su dove e come vogliamo vivere venga spontanea più o meno a tutti non solo a noi quali sono i tuoi criteri diciamo che mettiamo al primo posto il silenzio perché il silenzio è quello che ci permette di riposare bene per esempio quindi di dormire più serenamente quello che ci permette di leggere di studiare di lavorare e avere dei rumori esterni che continuamente ci flagellano i timpani non aiuta la concentrazione non aiuta il riposo quindi il silenzio lo metto numero uno perché se non riposiamo bene le cose non gireranno mai bene sì direi che per noi che lavoriamo per esempio da casa abbiamo bisogno di silenzio anche per lavorare per esempio per concentrarci ma come ne possono aver bisogno i bambini o i ragazzi per studiare quindi assolutamente sì io proseguirei con i 5 sensi e andrei sui profumi sul profumo dell'aria noi ci teniamo a questa cosa perché vivendo in Trentino ci siamo abituati ad un certo tipo d'aria e quando andiamo altrove sentiamo la differenza e questo è importante si sente tanto la differenza il profumo dell'aria è qualcosa che secondo me viene spesso sottovalutato viene nascosto con le fragranze i profumi e invece il profumo dell'aria è una di quelle cose che alla mattina secondo me ci mette di buon umore ci predispone a passare una bella giornata e iniziare male con la puzza di smog la puzza di fumo la puzza in generale secondo me non ci predispone così tanto bene a trascorrere una bella giornata e poi adesso abbiamo usato l'orecchio abbiamo usato il naso usiamo un po' gli occhi che cosa vedo quando guardo fuori dalla finestra ecco questo per me per esempio ha fatto la differenza perché a Milano chiaramente vedevo la casa di fronte sebbene ci fosse anche un po' di distanza tra una casa e l'altra però oggettivamente vedi i palazzi insomma e qui diciamo che la vista è totalmente differente io a Gallarate vedevo il Monte Rosa nelle giornate nelle quali la cappa di smog non esagerava diciamo era tutto chiaro vedevamo il Monte Rosa però allo stesso tempo nel senso il panorama non era molto diverso da quello che poteva essere Milano da qui invece quando apriamo la finestra usciamo sul balcone alla mattina abbiamo di fronte a noi il castello abbiamo di fronte a noi le montagne i boschi il giardino dei nostri vicini che dei nostri vicini che curano amabilmente anche per i nostri occhi grazie è una cosa stupenda anche perché questo ci permette di godere del cambio delle stagioni perché noi attraverso i giardini e i boschi vediamo proprio la natura modificarsi durante l'anno e il Monte Rosa è chiaramente strepitoso però vederlo da lontano è diverso che vedere appunto la natura così vicina avere il bosco a due passi pensare anche solo ho una telefonata lunga da fare posso uscire e fare una camminata e arrivo fino al bosco e noi lo facciamo davvero questo è uno degli aspetti interessanti perché adesso abbiamo parlato di udito olfatto olfatto mamma mia che vergogna olfatto si era incantato guardandomi e cercando la parola era visto ok udito olfatto vista e poi adesso non parliamo di sensi in modo stretto ma quanto è lontana la natura perché il fatto di avere i vigneti a meno di 300 metri da casa il bosco più o meno alla stessa distanza i laghi e tutta una serie di cose bellissime oggi qui dove viviamo in Trentino fa una differenza enorme enorme è un modo stupendo di poter lasciare andare e immergersi subito a due passi da casa nella natura e non è una cosa che ricordo io potessi fare così facilmente c'era sempre un po' di strada da fare sono d'accordo quindi ulteriore criterio che ci spinge nella scelta i vicini di casa non sempre insomma possiamo sceglierli purtroppo i vicini non li scegliamo e purtroppo non sono tutti particolarmente rispettosi del prossimo quindi come ha detto il nostro amico comune meglio da soli e che i vicini siano lontani e su questo non posso che essere d'accordo sono d'accordo anch'io credo anche che non sia sempre possibile né scegliere i vicini né scegliere appunto un posto così lontano dagli altri da non disturbarsi a vicenda è una bella questione questa perché mentre sul resto credo di tutto quello che abbiamo detto finora credo che ci siano davvero tante scelte soprattutto in Italia c'è tanta possibilità di scegliere un posto nella natura eccetera sulla questione vicini credo che sia abbastanza complessa parecchio però è un aspetto che non può essere ignorato chiaramente diciamo che qui sicuramente è più facile vincere facile rispetto a alla pianura mettiamola così e condominio in pianura è più facile questo senza dubbio e l'altra cosa a cui abbiamo pensato è posso andare al lavoro senza prendere la macchina o adesso cambiate lavoro con posso andare al supermercato posso andare da qualunque parte senza prendere la macchina perché prendere la macchina vuol dire poi anche cercare parcheggio non è detto che sia sempre facile trovare il parcheggio noi abbiamo praticamente tutto raggiungibile a piedi per cui viviamo questo grande vantaggio anche e quindi la domanda successiva è dove sono i servizi a che distanza sono i servizi che ti servono in quella fase di vita per l'appunto perché noi per esempio in questo momento abbiamo sicuramente bisogno della scuola alimentare come dell'asilo nido ma anche del medico del supermercato di tutto quello che posso dire la famiglia mamma mia la biblioteca la piscina eccetera eccetera e quindi il fatto che tutto questo sia davvero raggiungibile a piedi in pochi minuti cambia la qualità della nostra vita l'altra domanda però che ci siamo fatti spesso è tutti questi servizi sono di qualità mi migliorano la vita perché se vivo in un paesino davvero microscopico dove poi i servizi come dire esistono a singhiozzo ci sono a volte sì a volte no e magari le scuole non sono le migliori allora ci poniamo due domande anche su questo quindi piatti della bilancia che si devono come sempre equilibrare e poi c'è un'altra cosa un po' più tecnologica che però secondo me nel 2022 non può non essere presa in considerazione internet e i telefoni cellulari in generale funzionano adesso riesco a collegarmi bene a internet riesco a usare internet come si deve sul mio computer sul mio tablet sul mio device qualunque esso sia noi abitiamo in Trentino quindi da questo punto di vista siamo strafelici siamo strafelici per il posto in cui siamo adesso ma ti assicuro che ci sono dei posti in Trentino in cui non sei strafelice per niente nel posto in cui siamo potrebbe essere meglio ma già così va benissimo però anche qui ci sono dei posti che ancora non sono coperti però mediamente il Trentino ha una copertura più che buona contando che anche in montagna quindi ci sono sicuramente dei punti d'ombra e poi c'è un'altra cosa che per i più giovani o quelli un po' più grandi può fare la differenza che è quanto sono distanti e frequenti gli eventi sociali e culturali quindi il teatro cinema concerti piuttosto che altri tipi di eventi che abbiano a che fare una per dire con la musica quanto sono lontani per noi e soprattutto dopo la pandemia è una questione che ha una posizione bassa nelle priorità e pare che non siamo gli unici però vivere in una grande città per esempio vivere a Milano offre chiaramente delle possibilità da questo punto di vista enormi che sicuramente qui in Trentino non sono dello stesso tipo però quanto è importante quanto conta nella fase della vita in cui sei avere a disposizione tutti questi eventi sociali e culturali perché io conosco anche parecchie persone a Milano che mi dicono ah io voglio vivere a Milano o comunque intorno a Milano perché se no come faccio voglio uscire voglio andare e poi sono sempre troppo stanchi per fare qualunque cosa tutti i giorni della settimana domanda a che ci stai a fare? come sempre però è assolutamente relativo e personale perché c'è chi invece si gode la vita milanese in questo caso visto che stiamo facendo questo esempio e è proprio piacere no? frequentare locali o appunto eventi che in altri in altri posti non sono offerti insomma quindi boh è tutto così relativo in fin dei conti la domanda vera è sei consapevole di ciò che vuoi esatto abbiamo un ultimo criterio con il quale scegliamo dove vivere anche questo è un criterio per noi perché ci spostiamo spesso quindi non era un aspetto secondario per noi quanto è complicato prendere un treno ad alta velocità o un aereo dal trentino diciamo che per quanto riguarda le aeree la situazione non è felicissima perché bisogna spostarsi su verona su bologna bergamo o milano oppure treviso e venezia seconda e non è sempre uno spostamento facile e organizzabile con semplicità però i treni ad alta velocità sia frecciarossa di trenitalia che l'italo di ntv li abbiamo fermano a 30 a rovereto e tutto sommato diventa facile raggiungere milano bologna verona firenze roma napoli nel senso le direttrici principali sono comunque coperte è assolutamente relativo perché a noi interessa oggi spostarci per lavoro in altre fasi della vita probabilmente interessa spostarsi per viaggi in altre fasi della vita forse non interessa proprio spostarsi o ad altre persone semplicemente quindi anche questo insomma credo che sia davvero molto molto relativo noi oggi viviamo nella terza città del trentino per grandezza sono circa 20.000 abitanti e direi che in questa fase della nostra vita è un posto che chiamiamo casa volentieri è un posto che ci va bene ma lo sarà per sempre sempre non utilizziamo questa parola no 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 non vogliamo utilizzarla non è detto e oggi è un posto splendido dove vivere sì ma tornando alla domanda iniziale andremo in vacanza dove viviamo la mia risposta è sì questo è proprio un luogo dove potremmo scegliere di venire in vacanza e anzi noi approfittiamo tutti e approfittiamo per invitare tutti a farsi un giro in Alta Val Sugana quest'estate fra l'altro ci viene a trovare un sacco di gente quindi siamo contentissimi e soprattutto in agosto ogni anno ci ripetiamo che è un mese nel quale non ci spostiamo da casa perché tutti vengono in vacanza qui quindi noi ci godiamo il luogo della vacanza che è poi anche casa nostra e godiamo fruiamo ci piace gioire delle tutte le opportunità che l'Alta Val Sugana e il Trentino ci offre noi inizialmente abbiamo scelto di venire qui a Pergine perché è vicina è collegata bene con Trento quindi non è necessario per forza prendere la macchina poi abbiamo scoperto e continuiamo a scoprire delle perle fuori dalla porta di casa che sono a due passi da casa ma veramente molto molto vicine come lo sono poi la maggior parte dei servizi a partire dalle scuole e dagli asili questo per noi ha fatto una differenza enorme posso dire un'altra riflessione che mi viene è che molto spesso non conosciamo le perle a due passi da casa perché quando ho vissuto in altri posti mi sono resa conto che andiamo sempre sono sempre andata a cercare perle nascoste o posti meravigliosi da visitare magari lontani da casa e molto spesso conosciamo poco la zona intorno a casa perché le si dà poca importanza la si considera meno proprio perché sei lì e quindi probabilmente il pensiero è che prima o poi la visiterai prima o poi avrai occasione e si perdono delle perle nascoste posti meravigliosi da visitare che sono così vicini da essere quasi banali io mi sono reso conto che parlando con persone di qui avevo più conoscenza del territorio di persone che sono nate e cresciute qui e la loro famiglia è di qui quindi sono proprio di qua e non sanno molto di questo territorio e questo lo trovo particolare io credo che questo succeda anche a tanti milanesi per tornare alla mia esperienza di nata e cresciuta a Milano ci sono moltissimi posti di Milano molto belli che io non conosco e che non ho mai visitato proprio con l'idea del primo poi lo farò perché no in uno ti ho portato io eh sì è vero più di uno credo anche quindi approfittiamo ecco di quello che c'è vicino a casa noi viviamo in un posto dove verremo in vacanza nel quale in questa fase della vita ci sentiamo a casa nella prossima fase della vita vedremo non lo sappiamo ancora chi lo sa e a noi piacerebbe molto conoscere le vostre riflessioni e soprattutto se andreste in vacanza nel luogo in cui vivete grazie grazie